Ieri in un palatenda gremito, 1200 studenti delle scuole superiori della provincia di Ragusa hanno assistito alla manifestazione Faranno Strada di Sicuro, Giovani Artisti per la Sicurezza Stradale. È stata la giornata conclusiva di un progetto, giunto ormai alla terza edizione, che è puntata a sensibilizzare i ragazzi sul tema della sicurezza stradale, ricordando che sulla strada ci sono tante insidie e che ancora oggi la principale causa di morte per i giovani tra i 15 e i 30 anni è l'incidente stradale. L'importante messaggio è stato lanciato attraverso l'arte, sono stati infatti selezionati ragazzi con particolari talenti in diversi campi artistici, dalla danza alla musica al teatro fino alla fumettistica e gli stessi sono stati invitati a parlare ai propri coetanei di sicurezza stradale attraverso delle esibizioni. Fondamentale è l'impeccabile regia del maestro Peppe Arezzo che con la sua band ha consentito ai ragazzi di poter esprimere le loro capacità artistiche al meglio, successo anche per la sezione dedicata ai fumetti curata da Alessio Maruccia, fumettista della Bugs Comics, disegnatore della rivista storica e mostri, e per il percussionista di fama internazionale Marco Selvaggio. Presenti oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine una rappresentanza di ragazzi extracomunitari ospitati dal centro Mediterranean Hop a Scicli, nei confronti dei quali la polizia stradale ha voluto lanciare un particolare appello, visto che nel 2015 nelle strade ragusane sono deceduti in incidenti stradali sei cittadini extracomunitari investiti a piedi o sulle bici.